buongiorno a tutti sono Francesco Morelli benvenuti ad un'altra testimonianza narrata se avete parenti amici conoscenti interessati ai cerotti ma che hanno qualche dubbio riguardo alla sicurezza e o efficacia potete girare loro la foto sottostante che vi farò vedere in un momento infatti dal 14 gennaio del 2024 la Danimarca ha un nuovo re il neocoronato re di Danimarca Federico X usa i cerotti lightweight quando un membro di una famiglia reale desidera usare un prodotto nuovo potete essere sicuri che sia stato provato ed analizzato da vari esperti in mille modi prima che ne venga permesso l'utilizzo al membro della famiglia reale come si suole dire allora lunga vita al re e con i cerotti lightweight diventa molto più di una semplice espressione e quasi una garanzia se faccio vedere la foto eccolo qua vedete qui attento a questi cerchi gialli cerotti e qui un altro cerotto sulla nuca la posizione classica i cerotti che lui utilizza che sappiamo con certezza sono eon e energy enhancer infatti qui vedete nella foto dove sembra vestito da corsa o da triathlon un cerotto a sinistra e uno a destra che sarà l'energy enhancer e qui invece dietro la nuca dovrebbe essere un eon e voilà grazie dell'ascolto alla prossima puntata